Per me l'obiettivo principale è salvare la squadra, portare a casa la stagione, mantenere la categoria che è una cosa fondamentale, poi per il resto vedremo, non è nei miei pensieri, certamente non nascondo che mi piacerebbe continuare, ci mancherebbe altro. Per me è un'occasione importantissima allenare il Pescara, consapevole che è una situazione abbastanza particolare, però sono venuto con grande determinazione, sono convinto che possiamo raggiungere l'obiettivo, ieri poteva andare meglio, però siamo già pronti e proiettati per Venezia. Riccardo è molto legato a Pescara e sarebbe venuto ben volentieri, ma Fiorentina ha fatto altre scelte, quindi lui qui è stato veramente bene. Quando ero ragazzino io queste strutture qua le sognavo, perché sono 74, quindi giocavo nella provincia di Torino, i campi erano in terra e alle volte anche in pietrisco, quindi complimenti a queste iniziative veramente, e soprattutto per lo sport che penso che sia bellissimo, aggregativo, formativo e sicuramente vedere questi progetti è una cosa molto molto importante, complimenti a sindaco e consiglieri veramente.